Aloi arriva, Ianes va, anzi torna ad Avellino dove era già stato lo scambio tra Pescara ed Irpini e ormai cosa fatta e così Colombo irrobustisce con una grande quantità di fosforo una mediana che è ancora alla ricerca del direttore d'orchestra. Perché per un Aloi che è prodenne a Biancazzurro con lo scambio di documenti ormai archiviato e la trattativa conclusa la questione dirimente sarà chi il Delfino avrà come costruttore di gioco. Per intenderci quello che l'anno scorso era un compito assoluto ed esclusivo di Marco Pompetti perché quello che sarebbe stato l'erede designato Andrea Ghion da giorni in procento di trasferirsi in Abruzzo nella nostra regione verrà ma con ogni probabilità come avversario con la maglia giallorossa del Catanzaro. Il ribaltone nella serata di ieri quando la formazione allenata da Vincenzo Vivarini sembra aver fatto lo scatto decisivo per assicurarsi le prestazioni del giovane centrocampista che torna a Sassuolo proprietario del cartellino dal presidio Alperugia. Per essere nuovamente girato in prestito anche se stavolta in Lega Pro lo farà in Calabria con le aquile che con un vero e proprio blitz hanno anticipato il Pescara e portato a casa un ragazzo di sicura prospettiva. Il Pescara deve cambiare obiettivo dunque ma come farlo? Ci sarebbe la possibilità di rimanere su uno specialista del ruolo ma allo stato attuale non c'è grande scelta a meno che il Delfino non voglia piombare su un profilo come Andrea Rigoni svincolato dopo l'esperienza triennale a Teramo e attualmente senza contratto oppure cambiare la tipologia di giocatore affondando su Tencorang della Cremonese facendo in modo che Craia o Aloy ricoprano la zolla centrale del reparto nevralgico. Altra questione aperta quella dell'attacco perché Merola, anche lui seguito dal Delfino, ha scelto Cosenza e la Serie B per la prossima stagione. Troppo forte il richiamo della cadetteria rispetto alla terza serie e con Ferrante al Cesena e Vasquez al Gubbio ecco che gli obiettivi potenziali anche in questo caso si restringono. Lavoro extra dunque per il direttore sportivo degli carri che dovrà scandaliare le opportunità che si troverà di fronte a poco meno di due settimane dal gong del calciomercato. Vero è che con l'avvicinarsi della chiusura della lunga finestra estiva le occasioni aumentano ma è altrettanto vero che Colombo vorrebbe avere la prima possibile il quadro completo dell'organico su cui lavorerà, salvo aggiustamenti invernali, fino alla fine della stagione. In difesa Alessio Rasi è in uscita, così come in grosso e l'eventuale ritorno di Riccardo Obrosco a distanza di 10 anni con l'uscita anche di Ianes diventa una necessità ma è un mercato non semplice e spesso strade che sembrano tracciate possono svalire in pochi minuti.